Siamo con Raffaele Zanframundo a Massafra presso la sua pasticceria, cerchiamo di capire un po' come le misure restrittive del DPCM abbiano avuto e abbiano un peso notevole, comportino delle conseguenze notevoli in ambito economico. Come stanno andando le cose? Buonasera, prima di tutto vorrei sottolineare che la pasticceria è mia ma anche dei miei fratelli, abbiamo ereditato dal papà, il papà da nonno, quindi sono generazioni che portiamo avanti. Tradizione familiare, dai primi del Novecento che la mia famiglia fa pasticceria. Purtroppo siamo forse uno dei settori che più ha subito la pandemia, perché noi abbiamo avuto, parlo del lockdown scorso, un 80% in meno. Di lavoro, di fatturato che c'è stato sì, in parte, come si dire, col ristoro avuto dell'epoca, ma è stata poca cosa. Quello attuale ci auguriamo che l'emergenza che sta per arrivare, o che è quasi arrivata, non sia gestita alla stessa maniera dell'altra. Perché obbligare a chiudere bar, ristoranti, pasticcerie alle 18, lasciando poi la grande distribuzione o magari l'alimentare che ti vende il dolce. Qui i dolci li troviamo anche nei latticini, nei caseifici. Quindi obbligare una chiusura totale è come la penso io, come proposta. O soffriamo tutti allo stesso modo o niente. Altrimenti, le dicevi, sono delle categorie penalizzate. Basti vedere gli ipermercati aperti è una beffa. Esatto, io dicevo proprio che questa è la grande distribuzione che continua a vendere, avere il bar aperto, magari la ristorazione, la focaccia, il dolce. Non è giusto nei confronti delle categorie penalizzate con la chiusura alle 18. Lei fa parte di Confartigianato Taranto. Parliamo di questo supporto e apporto che ha dato a lei e agli altri operatori di categoria. Dunque, il supporto che ci ha dato, soprattutto nella persona di Fabio Paolillo, qualsiasi dubbio o magari chiarimento, abbiamo sempre chiamato la Confartigianato che ci ha subito delucidato su tutte e anche magari consigliato su come agire, come affrontare determinate problematiche che abbiamo trovato man mano, perché essendoci trovati davanti a un'emergenza nuova, nessuno sapeva come muoversi. Poi la legge si sa, ha tutte quelle interpretazioni da una parte difficili, capuziose. Per avere un punto di riferimento come la Confartigianato ci ha alleggerito un po' questo peso.